Il progetto si chiama Camminate 2020 e faremo delle passeggiate della durata di circa 3-4 ore per una lunghezza che varia dai 6 agli 8 chilometri in quartieri cittadini, zone diciamo che fanno sempre parte della città di Firenze però più collinari, accompagnate appunto da un esperto, una guida turistica, uno storico dell'arte che durante il percorso racconterà alcuni luoghi di particolare interesse storico-artistico o culturale. Sono aperte a tutti, a tutti quelli che vogliono partecipare, basta iscriversi, basta aver voglia di camminare, stare in compagnia e ascoltare un racconto. Faremo queste attività a Firenze e anche sul territorio di Lucca e di Pisa.